ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale è terminata la partita tra Monza e Sampdoria con risultato di 2 a 2 io personalmente non sono rimasto assolutamente deluso dalla prestazione delle due squadre e da quelle che erano le mie personali aspettative perché? Perché dico questo? Perché signori mi aspettavo un Monza che cercasse di dare continuità a quanto di buono ha mostrato fino ad oggi e poi comunque veniva da una vittoria importante allo Juventus Stadium quindi mi aspettavo un Monza comunque abbastanza gasato un Monza che davanti al proprio pubblico volesse fare bella figura e dall'altra parte mi aspettavo una Samp sicuramente sicuramente combattiva un po' come lo spirito del suo allenatore però la Sampdoria ha bisogno di punti e quindi vedendo anche il pari tra Hellas e Lazio e poi vedendo comunque la sconfitta dello Spezia mi aspettavo una Sampdoria che desse tutto in campo vorrei partire dal... fare i complimenti ai tifosi del Doria perché hanno a mio avviso fatto qualcosa di veramente emozionante ripeto io ho tanti amici sandoriani io conosco bene l'ambiente sandoriano e il supporto che stanno dando a Stankovic e ai giocatori è veramente incredibile ed è uno spot per il calcio perché ragazzi la Sampdoria non merita sicuramente di essere penultima per la storia che ha, per i giocatori che ha sfornato negli anni cioè non è una squadra che è comunque abituata a stare in quelle posizioni lì quindi i tifosi nonostante l'amarezza, la rabbia e tutto sono lì a supportare la squadra quindi questo merita assolutamente di essere sottolineato quindi gli faccio tanti tanti complimenti detto ciò passiamo alla partita partita che a mio avviso vede il risultato giusto perché secondo me il Monza oggi ha fatto una partita comunque importante dal punto di vista qualitativo ha fatto una partita dove ha pagato degli errori dove ha pagato degli errori difensivi e la poca concretezza davanti perché oggi a mio avviso ragazzi è salito in cattedra brutalmente cioè il migliore in campo a mani basse oggi a mio avviso del Monza è stato Carlos Augusto classe 99 preso dal Corinthians già da qualche stagione al Monza sta facendo sicuramente vedere cose così importanti e il primo gol quest'oggi è nato da un suo assist poi aveva messo un bellissimo pallone pallone in mezzo che non ha visto la conclusione del compagno possibile perché c'è stato un grandissimo intervento difensivo da parte della difesa della Samp però è un giocatore che oggi a mio avviso è stato sicuramente un uomo in più anche con la Juve ha fatto bene è un giocatore veramente interessante quindi mi sento di sottolineare veramente la sua prestazione quest'oggi perché ripeto per me quest'oggi è stato l'uomo senza dubbio in più per il Monza quello che oggi onestamente ho trovato un po' fuori dal gioco è stato Churria che ovviamente ho preso giusto in settimana al fantacalcio e da lui mi aspetto un qualcosa di in più per la cronaca il giocatore che è il fantacalcio e che oggi ho deciso invece di non mettere Manolo Gabbiadini Manolo Gabbiadini che se avete visto i miei video precedenti io più volte ho sottolineato l'importanza di questo giocatore per la Samp oggi giustamente ho pensato bene di non metterlo e ha sparato la doppietta grazie Manolo grazie detto ciò è un giocatore che l'ho già detto qualitativamente è probabilmente il giocatore più importante che ha la Samp in campo perché poi ci sarebbe ovviamente Fabio Quagliarella in panchina ma è un giocatore che deve trascinare i compagni e oggi comunque l'ha fatto oggi l'ha fatto non solo per i gol ma anche ricordo quell'assist veramente bello per Augello che si inventa questa conclusione al volo che avrebbe meritato più fortuna ma si è fatto comunque sicuramente trovare pronto quindi MVP della Samp senza dubbio Manolo Gabbiadini ma ma aggiungerei prestazione altra prestazione importante di Wings giocatore di cui vi avevo già parlato anche lui nei precedenti video ragazzi giocatore che è mancato tantissimo al Doria tantissimo e lì in mezzo fa veramente fa veramente tanta tanta differenza poi io perché dico che secondo me le due squadre hanno meritato il pareggio perché comunque a mio avviso il Monza è quella che ha creato di più rispetto alla Samp però poi non riusciva a sfruttare bene le occasioni ma grazie alla bravura in questo caso difensiva della Samp oggi a mio avviso la Samp ha fatto una buona partita difensiva certo poi il calcio di rigore all'ultimo è stato letale perché comunque sia va a condizionare quello che è il risultato finale quelle che sarebbero potute essere i punti a fine partita però ragazzi anche le statistiche 17 tiri per il Monza e 11 per la Samp quindi come vedete anche le statistiche mi danno ragione più di 70% di possesso palla del Monza quindi Monza che comunque ha fatto la partita e la Samp è stata brava a sfruttare appunto gli errori e le imprecisioni del Monza però 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 io credo che la Samp debba ripartire da questo atteggiamento lo doveva già fare con l'Empoli dopo che non era riuscito a portarsi a casa i punti oggi comunque io penso che i tifosi della Samp vadano via da Monza comunque orgogliosi della squadra perché oggi hanno fatto hanno messo in campo tutto quello che avevano con i loro limiti io poi continuo a battere sulla situazione estracampo della Samp ragazzi è veramente difficile quindi questo non aiuta assolutamente però permettetemi di dire veramente che oggi è stata una partita veramente di calcio bella poi non entrai, sapete, tanto nei tatticismi queste cose qui anche perché comunque è una partita anche che si sono giocate le due squadre a viso aperto non sono state lì più di tanto a fare diciamo calcoli no? no, la Samp doria appunto ha cercato di usare gli errori del Monza il Monza ha creato di più anche perché a mio avviso ha una qualità superiore rispetto a quella della Samp doria in questo momento gioca con più tranquillità sicuramente rispetto al Doria e tutte queste cose qui si vedono in campo quindi niente, io sono soddisfatto sia dalla prestazione del Monza che da quella della Samp il Monza, ripeto, deve essere più attenta difensivamente e più cinica davanti per quanto ovviamente è possibile perché stiamo parlando del Monza ovviamente e non del Real Madrid e la Samp invece deve, deve, deve riuscire a portarsi via i tre punti in tutti i modi, in tutti i modi deve riuscire a farlo ripeto, l'atteggiamento è quello giusto però non basta però non è bastato faccio ancora i miei complimenti a Paladino perché anche oggi si è visto, a mio avviso, un bel Monza e vedete ragazzi, ripeto è una partita che non mi ha assolutamente deluso avevo parlato con uno o due amici erano convinti che il Monza avrebbe vinto facile io invece ero convinto che sarebbe stata una partita tirata quindi ecco sono contento di aver avuto ragione che ci sia stata partita e nulla il Monza sale a 26 punti classifica la Samp va a 10 4 punti dall'Ellas a 8 dallo Spezia ragazzi, il discorso salvezza è ancora possibile certo che dura certo che dura perché comunque questa è una botta dura da buttare giù per la Samp questo senza dubbio va bene io chiudo qua prima di salutarvi ragazzi ho un annuncio da fare attenzione mercoledì mercoledì per chi avesse piacere intorno alle 18.30 18.40 circa ci sarà la mia prima live su Twitch poi cercherò di condividere il link anche qui sul canale quindi per chi avesse piacere sarò il compagno di due amici parleremo parleremo di calcio parleremo di questa giornata parleremo di un po' di cose se avete un'oretta e volete venire a comunque ad assistere a questo momento storico per me per noi sul canale di Twitch sarò sarò e saremo ben felici di avervi e ragazzi semplicemente vogliamo parlare di calcio con speseratezza con qualche battuta con qualche sorriso però affrontando i discorsi in maniera assolutamente direi oserei professionale con professionalità con serietà ecco ripeto senza disdegnare battute e sorrisi perché sicuramente sarà più piacevole detto ciò quindi intanto vi do appuntamento domani qui sul canale per Salernita na Juve partita importantissima e poi se vorrete mercoledì ci vediamo su Twitch un forte abbraccio ciao ragazzi iscrivetevi al canale difondete il verbo importantissimo ciao ragazzi grazie a tutti